Lavoro senza sosta per cercare i superstiti tra le macerie del terremoto che ha messo in ginocchio la terra di confine tra Turchia e Siria. Un lavoro atroce. Sotto le rovine dei palazzi vengono estratte le salme di decine di persone. In questo contesto drammatico c'è anche qualche spiraglio di luce. Il contingente dei vigili del fuoco e infermieri arrivato dalla nostra regione è riuscito a salvare alcune vite. Nella provincia di Atai, sotto le macerie di due diversi palazzi, sono stati trovati un ragazzo di 16 anni e una donna di 65. Tra i primi a sentire le loro voci, Samuele Pacchi, responsabile degli infermieri della centrale del 118 di Arezzo. La situazione è drammatica e le richieste di aiuto tantissime. Siamo costretti a scegliere chi salvare sulla base di dati oggettivi. Sono scelte disperate. Le persone si inginocchiano, piangono e ci implorano di intervenire, ha raccontato l'infermiere toscano. Sempre nella provincia di Atai, nella città di Antiochia, le squadre Usar dei vigili del fuoco, di cui fa parte anche il contingente toscano, hanno estratto in vita un ragazzo di 23 anni, rimasto per più di due giorni sotto il solaio in cemento di una palazzina, crollata ad Antiochia, una corsa contro il tempo, con le speranze di recuperare persone in vita, che si affievolisce ora dopo ora. Nei prossimi giorni è previsto l'avvicendamento del personale, con il probabile coinvolgimento di altri vigili del fuoco dai comandi toscani.